Questo non lo decidiamo né io né la ministra tedesca, è stato un incontro molto importante in cui ho fatto presente alla ministra tedesca quanto sia importante per noi che giustizia venga fatta sul caso della Thyssen. La ministra era al corrente della situazione, è molto sensibile rispetto a questa problematica ed era chiaramente dispiaciuta che nell'ambito dei rapporti tra Italia e Germania si sia venuta a creare un problema di questo tipo. Chiaramente in Germania come in Italia esiste la completa separazione dei poteri tra magistratura e governo e quindi lei non ha la possibilità di fare alcun tipo di pressione sui magistrati. Nello stesso tempo loro hanno il ministro della giustizia federale hanno il ministro della giustizia dell'AND competente che segue l'andamento della procedura. Ho chiesto chiaramente se avesse già parlato con il ministro dell'AND e mi ha detto che il ministro dell'AND competente sta seguendo tutta la procedura. A lui risulta che i magistrati stanno andando avanti. Mi fa presente che pur sapendo che la sentenza definitiva è del 2016, comunque gli ultimi documenti alla Germania sono arrivati in agosto del 2018 e quindi si sta proseguendo nell'esame della sentenza e nella procedura di riconoscimento. Ecco, non posso far nulla per pressare, la Costituzione non gli dà nessun potere per pressare, però era assolutamente al corrente della situazione, dell'importanza che ha per l'Italia questo caso e anche per questo che mi ha voluto incontrare e appunto, ripeto, sapeva che anche il ministro competente monitorava il buon funzionamento della situazione e allora risulta che i magistrati stanno proseguendo. Tra l'altro ci tengo a dire che prima di venire a parlare con voi, questa cosa l'ho già comunicata a una delle mamme degli operai morti in quella tragedia. Chiaramente è solo un primo passo di un rapporto diplomatico che noi vogliamo portare avanti su questo caso. Abbiamo rappresentato quanto è importante per noi la vicenda Thyssen nel fatto che la giustizia deve essere fatta e tra l'altro la ministra tedesca chiaramente concorda sul fatto che nell'ambito dei rapporti che sono ispirati dal diritto internazionale ma anche del diritto europeo è giusto che giustizia venga fatta. Quindi da questo punto di vista c'è stata sintonia chiaramente nei limiti delle competenze che lei ha, che poi è un po' come sarebbe in Italia dove chiaramente un ministro non può fare pressione sui magistrati. Io la prossima settimana spero di incontrare i familiari delle vittime per parlare con loro un po' più nel dettaglio di questo incontro e comunque continueremo a monitorare la situazione e a cercare continui aggiornamenti per far sì che tutti sappiano che per l'Italia questa è una vicenda importantissima che deve trovare una sua conclusione.